Musica Apriamo la nostra rubrica con il campionato tedesco con le immagini montate da Sergio Bucari seguiamo Bayer in maglia rossa Eintracht finita 2 a 0 Entrambe le reti nella ripresa lancio per Kohler scatto finta e il portiere battuto Il raddoppio a pochi minuti dal termine Effenberg chiede triangolo lo ottiene e insatta Il Bayer è ora ad un solo punto dalla capoclassifica Kaiser Lauter Campionato spagnolo Il cadice in maglia gialla